L'uomo è stato creato per essere partecipe della natura divina e questo destino dell'uomo a cui è chiamato a dare il proprio assenso lo permea per così dire ma non cancella affatto la sua umanità e dipendenza e la sua libertà di azione. Infatti l'albero della conoscenza del bene e del male non andava mangiato non perché Adamo non sapesse cosa fosse bene e male prima di mangiarne ma perché il suo atto consapevole avrebbe sancito un atto di ribellione di indipendenza dal sommo bene datore di vita e legislatore perfetto cioè il Dio. L'albero della conoscenza del bene e del male quindi implica il cibarsi del sapere secondo un quadro e una prospettiva puramente umana divisiva erronea per così dire legge a se stesso anziché dallo sguardo sapiente di Dio il quale fin dalla fondazione del mondo aveva provveduto l'agnello immolato affinché nel suo disegno benevolo il perduto fosse ritrovato e reintegrato così che il cielo possa celebrare il peccatore convertito piuttosto che i 99 giusti in quanto esso costituisce il culmine di questo progetto che manifesta nella storia nell'eternità il vero bene che sconfigge il male in Cristo per tutta l'eternità